In questo video ragazzi faremo il test del terzo carico di Capodanno 2023-2024 e andremo a provare tre articoli veramente cattivi, veramente molto molto particolari che se vi piacciono Razzi e Pirastar questo video sarà veramente perfetto per voi ragazzi tre articoli molto particolari che abbiamo preso tutte e tre da Peerworks sfruttando il codice PLT5 con cui si può avere il 5% di sconto su tutto quello che vende Peerworks Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Pirotecnica La Torretta, io sono Nico e dietro di noi c'è Samu che sta riprendendo bella ragazzi, siamo qui un'altra volta, ancora una volta perché vogliamo provare dei razzi Esatto, oggi proviamo dei razzi e delle candeli romane, partiamo con ordine, con Gali Con ordine, non spoileriamo Con Gali, 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 con Gali e Sanguevreddo Allora abbiamo le Rockets, Faction, vedi me, che fa me così per farvi capire la grandezza Sì no, sono modesti, modesti Allora abbiamo piccolo, medio e grande Ma adesso li andremo anche ad aprire, vediamo lì dentro Apri tutto, scavicchi, scavicchi Allora ne abbiamo tre piccoli, raga, che adesso andiamo a vedere le grammature Ne abbiamo quattro medi e ne abbiamo cinque grandi Quindi di solito è il contrario, fanno cinque piccoli, quattro medi e tre grandi Invece loro sono i bravi E se ne danno tanti grandi, così vi vogliamo Allora, partiamo dal grande, dai, via, subito così Andiamo a vedere Rocket Faction Grammatigine, Sam, gramami 31 grammi 31 grammi per quelli Non male, dai, non male Davvero niente male Qua giù, qua giù Sì, sì, vai Medio E abbiamo Facciamo vedere, lo giriamo, così lo vedete bene E abbiamo 25, no? Ah, anche qui niente male Potrebbe essere meno la differenza di quello che sembra Sì, sì Io qui lo dico E qui lo nego E qui non lo nego Quello medio farà il culo a quello grande Ah, così Sì, e poi abbiamo il baby 13,65 13,65 Ragazzi Niente male Niente male Niente male E sì, lo dico ragazzi Non sottostimate i piccoli Perché quando vedete il cartone così grande In realtà è tutto vuoto C'è un tubo largo così dentro Quindi è tutto tubo Io ricordo Sì Che uno dei miei razzi preferiti È grosso così Forse una via di mezzo tra questi due Ed è il killer Killer Tanta roba killer, Jorg Il solo ma che fa il culetto Paiolo a tutti gli altri Vabbè, quelli ve li abbiamo fatti vedere Assolutamente Dentro la confezione c'è il tubo di lancio Se vi servo Il tubo di lancio che faccio un appunto da Levi Se potesse sostituirlo con quello in cartone Sarebbe meglio perché questi di plastica fanno pena Poi Però, vabbè, questa è una cosa che noi precisiamo E così il signor Levi ci odiò Esatto E bloccò per sempre Giusto per farci vedere il panorama Di petardi e pochi d'artificio italiano Allora, passiamo a queste Raga Raga, 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 raga Dico 30 oltre Bimbo felice Abbiamo la candela romana Mega bombard Grazie in vita mia Guardate quanto è grossa Sì, questa non va tenuta in mano 30 mm 5 colpi 5 colpi 30 mm E secondo me questa è veramente devastante Non voglio dire altro Io l'ho già sparata È devastante Ok, vedi, ecco È devastante Ed il resto è ragazzi a Levi Sì, raga, ma poi ho preso un botto Ve lo giuro 49 grammi 49 grammi 49 grammi, raga, 5 colpi Vuol dire che sono Aspetta, fammelo mettere qua Vuol dire che sono 49, eh, sono quasi 10 grammi a colpo Non è per niente male Per queste bestie 10 grammi a colpo è per 20 mm Ti fanno il culo alle guanciotte Questi Esatto Andiamo a vedere Sì, li ho richiusi un po' a cacchio Va bene, Samu Puoi fare quello che vuoi Basta che si spara Poi va tutto bene Allora, andiamo a vedere Razzigiove a Levi, ragazzi Ma questa è piena Eh, sì, sì, sì C'è stato un piccolo problemino Col corriere, ragazzi Qua sono arrivati Staccati dal 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 bastone di lancio Quindi li abbiamo riappaccati Ma nulla di che Nulla davvero di che Scusate, voglio aprire Non riesco Poi lo facciamo Dopo li apriamo Non c'è problema Il peso Cioè, la palla No, no, sono grossi Pesa un botto Io metto la dito qua E la palla è piena Sto giro È piena, piena, raga Veramente Se la muovi Non so se riusciamo A farlo sentire in cam Ops Mi ha spaccato un razzo Ma È piena di roba dentro Va bene È piena di pallette Vabbè, prendiamo anche il verde Ma ecco, la domanda Sì Vediamo chi lo sa Se qualcuno lo sa Ci scrive nei commenti Stoppa e risponde Vai I colori Sono quelli che poi Faranno in cielo Rosso e verde Non ne ho Pupare l'idea Non mi ricordo Minimamente Quello che so, ragazzi Che abbiamo preso Tutto questo Da Piroworks Sfruttando il codice PLT5 Tutti e tre Sono 5 Piro a stare in uno Esattamente Preciso Preciso Sono perfette Rocket Fashion Non li ho mai provati Ma secondo me Essendo allevi La qualità ci sarà Esattamente Andiamo Andiamo a rampa di lancio Bene ragazzi Andiamo a provare Questi Rocket Fashion Allevi Rocket Fashion Allevi Già fatte le riprese Per TikTok Partiamo a cannone Sì c'è Ok Andiamo un po' lontani Ragazzi Questo è il momento Jogging Che musica dovrei cantare Dovrei ascoltare Nel momento Jogging Vai Questo è il piccolo Che pizza Ragazzi Belli Belli Allevi sui razzi Non si smentisce mai Ragazzi C'è poco da dire E Vai È un altro livello Semplicemente Andiamo col medio Belle pizze Che tirano Io spero che renda video Ragazzi Perché tirano Delle mine Veramente Vai Questo è il grande Ragazzi Eccolo Cazzo Bello Adesso tutti Alla rinfusa Senza dirmi Che cos'è Adesso andiamo Con quelli che avanzano Ragazzi Su Piero Works 35 euro 12 razzi Con il codice PLT5 Ve li portate Un pochettino meno Razzi di qualità Nulla da dire Vacca Che mina Veramente razzi di qualità Veramente razzi di qualità Allevi si fa pagare la sua roba Ma è roba bella Eh No Eh? Cos'era? Medio? No Grande Fuck Vediamo un po' questo cosa sarà Ma cos'è Questa era grande? Sì Medio Cosa? Sì Perché è Eh Che aveva il bastone rosso Sì Che non è andato su E non è andato su Ah ok Ultimo racket fashion ragazzi Che sarà la grande suppongo Che pizza Che ne dici di sti rocket fashion In mezzo alla nebbia Oggi c'è un'umidità spaventosa Tanta roba raga Porco cane Tra l'altro vanno su tantissimo Sì Sì E quindi magari sembrano anche Non dico piccoli Ma Sì è vero Sembrano Ma ce n'è uno che è partito un po' più basso Perché c'era il bastone rotto Ah quello blu e glitter bianco Ragazzi Che è salito meno perché il bastone era rotto Quindi ha girato e non è andato dritto Sì Ha fatto un Ha aperto un po' più basso Ha fatto un botto Di fastante Bastante raga Tanta roba Molto belli Super super approvati Prezzo? 30 Piroworks li ha 35 euro Con il codice PLT5 Ce li si porta a casa Ha un pochettino meno 5% in meno Ragazzi la qualità è alta È alta alta Bene ragazzi Dopo questi razzi Da paura Siamo qui Sacrificiamoci Prima mega bombard In rampa di lancio Andiamo a vedere questa meraviglia Sogno di tutti gli appassionati di Pirastar Via 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 E che qualità raga Che cos'è? Che cos'è? Ma cos'è? È una batteria 30 mm in tono Essenzialmente sì Che roba E queste sono la svolta No no Queste sono Queste non le ho mai prese Ma sono belli Perché non le ho mai prese? Sono devastanti Perché È una 30 mm verticale Nel tubo Preciso preciso Al posto che farvela così Tanta roba Andiamo però subito l'altro Vai al volissimo Subito Ste mega bombard ragazzi Si trovano un pochettino meno Perché a Levi Difende il suo prezzo I suoi pezzi Non li vuole vedere svenduti Però la qualità è alta ragazzi Giusto per dirvi Tirano talmente dei rinculi Queste mega bombard Che stanno scavando in giù nel tubo È veramente bello Vai Sì Dove possiamo farle? Cioè se non abbiamo un tubo così Dobbiamo ficcarle dentro il terreno Io consiglio di fissarle a terra Perché se qua si muovono tanto Sì ma poi non la terra in mano Neanche No 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 In mano no no Ti da di quelle tegore Esattamente Dai proviamo questa Vediamo se cambia colore Sarebbe figo Non mi ricordo più Se erano diverse Quando vuoi? Vado La peppetta Dall'autostrada ci suonano Eccolo Mamma Che roba Ragazzi sono veramente belle Porco Guarda Quasi zero Sì 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 No oggi c'è un'umidità Pazzesca ragazzi Quindi ovviamente Un po' di umidità Rimane È normale Prima abbiamo fatto dei fumodi Non che c'è Quindi dei razzi Non che Sì Magari quelle Bruciate le terrei lontano Dalle batterie Abbiamo fatto dei razzi Abbiamo fatto un po' di flu Che ci sta Comunque c'è la carica Invece Tornato quel periodo dell'anno In cui stringere i fuochi Appena esplosi È meraviglioso Un filo No vabbè Fa niente Ragazzi Peerworks Noi le abbiamo pagate 13,50 Con lo sconto 5% PLT5 Secondo me vale la pena Tutte e due Sì sì Tutte e due Onesto Sì onestissimo Tirano delle teghe No ma questa è Dico anche una cazzata Ne prendi quattro per dire Le metti un po' così Due così e due cos'ha Ti fa un ventaglio Colleghi con la Passa fuoco No Meglio centralina Sì Tanta roba raga Sì Brava a Levi Eh a Levi Altro livello E adesso andiamo con loro I più attesi I più aspettati I più Pappappati Bellissimi Le reginette della festa Allora mi prendo il verde Che sono più bello E io mi devo ciocciare il rosso Bene ragazzi Andiamo con le reginette della festa I razzi Giove A Levi Questi sono Un altro pianeta ragazzi Totalmente Un altro pianeta Che cos'era? Hai sentito che cacchio di botta? Guarda che comunque perché va su tantissimo Sì va a casa di Cristo Se fosse 10-15-20 metri più basso Sì Ce l'ho spaventato Sembra piccolo perché arriverà Non scherzo A 50-60 metri Sì Sereno proprio Sereno proprio Però Vaccolina Però dal botto si capisce Sembra che hanno tirato un petardone in quota Sì? Andiamo col secondo ragazzi Assurdi Val con ogni centesimo No raga No raga no Non rendono a video Che cos'è? Dal vivo sembrano quelli professionali Sì sembrano sfere Una sfera professionale Preciso Quando andate a vedere uno spettacolo d'estate Quelli capo a pa... Perfettamente simmetrico Sì a papete bici Esatto Così raga Professionale Cioè questi veramente sarebbe da prendersene 50 e farsi lo spettacolo Sì sì Bellissimi Assurdi Prezzo? Allora Peerworks li vende a 20 euro Il pacco da due Con il codice PLT5 L'ho pagato a 19 Eh sì esattamente Qualità assoluta Alla fine sono una sfera Top Direi che per concludere questo video Possiamo dire due cose Vai Uno ricordatevi il codice PLT5 Su Peerworks E off 5 Su Peerofferte Sul sito Peerofferte Se si mette i razzi su Peerofferte Sarebbe... Nei non credo allevi Vediamo Se avete 5% di sconto Ricordatevi Pyronation Vuole un euro al mese Ci do una grande mano Perché adesso arriva il periodo caldo E iniziamo a imparare La fa costosa Caliente Caliente Sì laggiù ci sono parecchi soldini Vedeteci nei preferiti Se preferite il pacco da 12 Le due candelozze romane Oppure le bombe Da Quasi Sono 71 grammi 71 grammi Fateci sapere nei commenti Quale avete preferito E ci vediamo alla prossima Ciao Bella ragazzi